Ecco, mi è stato chiesto di fare questo video su Black Flag sull'osservatorio Un po' di tempo fa su questo forum Adesso speriamo che mi riesce Eh, non è facilissimo, rendo conto Vabbè, è stupidata perché non hanno fatto la presa Perciò per far vedere che questo era niente di preparato Non voglio lasciarti qui, sarà il vostro funeral Per favore, per favore, non mi abbandonate E' qui, è un pirata, è qui Però che se li buttiamo Io non capisco perché gli sommettono tutti questi percorsi E' uno dei maghi a fare queste cose Per carità Ok Adesso bisogna soltanto prendere le misure per bene Ma se no Ecco Eccolo qua Oh, finalmente Alleluia Bisogna stare soltanto un pochettino attenti Dopo potrebbe essere una gran cavolata Perché una volta fatto quello Non si entra dentro l'osservatorio E c'è torna a sedaggio in fondo Obiettivi secondari Ci abbiamo uccidere guardie con Vabbè Questi li ammazziamo Un pochettino attenti e abbiamo bruciato tutti dentro le cose iso vabbè questo ok stiamo attenti perchè è una gran sebbia non bisogna di sicurezza iso questo ci dice ciao maia adesso ci sono sti tubi tocca fare un po' di pacchi mi fermi no 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 mamma mia no 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 ok mi fanno questi percorsi incasinati e vabbè 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 ma oggi in aria no 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 più semplici più semplici no eh ok ok lo lasciamo facciamo così ecco ecco torres che sta a delirare bisogna stare attenti perchè c'erano no potevamo tenere il potere per noi e ridurre quei miserabili imperi in ginocchio c'è un enorme potenziale in voi eppure non l'avete ancora compreso potevo mostrarve tutti e speri ben al di là di quanto immaginate oh signore ciao torres no eccolo qua si comunque era una camminata abbastanza difficilotta se non so quando i tempi giusti faccio solo il mio dovere torres voi avreste fatto lo stesso bellissimo l'arbitro mimetico d'assassino taino e amici ne futuro ci avete perso molto più di noi può essere ma se vi uccido pongo rimedio a un male molto maggiore ci credete sul serio voi vorreste rinchiudere l'intera umanità in un elegante e decorosa prigione sana e salva ma privata della ragione e prosciugata dello spirito quindi si con tutto ciò che ho visto e imparato in questi anni ci credo e come sembrate davvero molto convinto buon per voi vabbè laureano torres come templare insomma il meno peggio il meno peggio di tanti altri torres ha risvegliato qualcosa qui siamo al sicuro ora che l'abbiamo riportato credo di sì come si chiama questo posto la follia del capitano che lui e adesso gli assassini Siciliano lo salvatorio Dopo aver sistemato tutto a casa Diventa un assassino col tempo È arrivata la settimana scorsa Vediamo se finalmente mi ha dato il Redward che cercavo Devo liberare i sette guardiani Intanto ho fatto... Eccoli qua Guardiani fatti Guardi uccise con le difese dell'osservatorio E vabbè niente Quindi si interrompe il ricordo E questa era la camminata Ecco Per far vedere che non era niente di preparato Non mi piacciono le cose preparate Molto estemporaneo Ecco Non è molto facile quel percorso Ma se si prendono gli obiettivi giusti Ecco questo l'ho rifatto nel frattempo Ho rifatto Black Flag Io ho il 100% Il 996 ecco Manca praticamente pochissimo Ma benissimo Allora al prossimo video Grazie a tutti Allora al prossimo video Allora al prossimo video